Il prossimo eurogruppo sul MES va rinviato. L'emergenza Covid-19 cambia qualsiasi priorità in Europa e non consente che impegni di così grande portata come il MES siano cambiati in modo sbrigativo, mentre il quadro di riferimento muta assai più rapidamente e con un forte potenziale di instabilità. Affrontare e superare l'emergenza è un compito politico prioritario e vitale per tutti gli stati. Il minimo che si possa fare è che su una questione così spinosa, su cui il Parlamento e il Movimento 5 Stelle hanno posto precise condizioni, ci sia un saggio rinvio. Non ci convincevano già i tentativi precedenti che volevano riformare il MES senza inserirlo nemmeno in un pacchetto di riforme che includesse l'unione bancaria. Non ci convincono tantomeno i tentativi attuali, in una fase già molto più insicura. Poiché sul pacchetto di riforme non ci sono stati passi avanti, nessuno sbilanciamento può giustificarsi in favore del MES. È quanto affermano in una nota i deputati Pino Cabras, Andrea Colletti, Yolanda Di Stasio, Iana M, Riccardo Olgiati, Cristian Romaniello, Elisa Siragusa, Simona Suriano, della Commissione Esteri alla Camera del Movimento 5 Stelle.